Ancora scempio rifiuti a via Monti di Risina, strada ai confini tra Torre del Greco ed Ercolano. Non si fermano gli sversamenti illeciti che devastano l'intera aria, ridotta nuovamente ad una vera e propria discarica abusiva. Due mesi fa la strada fu bonificata, ma senza controlli lo scenario è sempre lo stesso. Materiali di risulta, rifiuti pericolosi, erbacce, ingombranti, carcasse di animali abbandonati da mesi, come mostrano le immagini. Cresce la rabbia e l'esasperazione dei cittadini che da tempo denunciano la precaria situazione igienico-sanitaria agli organi competenti. Servono maggiori controlli, la richiesta dei residenti e telecamere di videosorveglianza per fermare questo scempio. La situazione è inaccettabile e vergognosa. Qualcuno deve ascoltarci.